Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, come state? Spero che tutto vada bene. Se siete nuovi nel mio canale siete i benvenuti, se invece siete già iscritti, siete i bentornati, come si dice in Spagna, mi casa, estu casa. Oggi sono qua per portarvi la recensione di Prima Regola, non innamorarsi di Felicia Kingsley, quindi senza perderci in altre chiacchiere, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, ovviamente se non l'avete già fatto, se vi va accendete anche la campanellina, anche perché uno dei prossimi video sarà uno dove vi consiglio storie su Wattpad, che comunque sono storie accessibili un po' a tutti quanti. Quindi detto questo, se vi va accendete la campanellina e iscrivetevi al canale, così da non perdervi i miei video, lasciate un bel like e se vi va commentate, se voi avete già letto o meno Prima Regola non innamorarsi di Felicia Kingsley e ci tenevo anche a ringraziarvi perché i vostri commenti mi rendono veramente tanto, tanto felice ragazzi, cioè che dopo magari una brutta giornata io prendo in mano il telefono e leggo i vostri commenti perché veramente mi riscaldano il cuore, mi fanno ritornare il buon umore, il sorriso, perciò grazie a tutti quelli che commentano veramente e niente, se vi va lasciatemi un commentino anche qua. Quindi detto questo, direi di far partire l'intro. Allora ragazzi, come sempre la scaletta è trama, temi, alla fine è la mia recensione, quindi detto questo direi di partire con la trama. Silvi ha 27 anni, una madre asfissiante e sogna solo una vita normale, con un lavoro normale, ma la verità è che la sua vita è tutto meno che normale perché è una truffatrice, sì una truffatrice, figlia di una truffatrice che l'ha istruita alla perfezione nell'arte del forte e dell'inganno, le ha persino insegnato a piangere a comando, ad andare nei ristoranti e mangiare senza pagare. Ci sono solo due cose che Silvi non deve fare, che le sono state vietate dalla madre, mangiare i carboidrati e innamorarsi. A lei le regole non piacciono, ok? Vivere senza innamorarsi, ma non senza carboidrati. Infatti per questo ogni volta che parte per una missione, mangia tutti i carboidrati che non ha potuto mangiare mentre era con la madre. C'è invece una persona a cui le regole piacciono moltissimo, Nick Monte Cristo, un affascinante ladro gentiluomo e astuto genio dell'arte. È un'abile stratega, impermeabile ai sentimenti e non ha mai fallito un solo incarico. Nick e Silvi sono i prescinti da un ricco ed eccentrico collezionista per mettere a segno un colpo sensazionale. Il ricco ed eccentrico collezionista è Lord Harry e vi dico solo che a me sta un sacco antipatico. Peccato che i due si detestino e abbino qualche conto in sospeso da regolare. Lei è fuoco, lui è ghiaccio. Impensabile lavorare insieme, impossibile dire di no al colpo. Riusciranno Nick e Silvi a passare da rivali a complici ed evitare una fastidiosa quanto imprevista attrazione che tra loro magari complichi le cose? Ma sì, in fondo sono due professionisti. Basterà rispettare una sola regola, ovvero quella di non innamorarsi. Infatti verso la fine del capitolo ci sono tutte le dieci regole del ladro che sono la prima, prima c'era scritto mai fidarsi di un altro ladro ma poi è stata tracciata e c'è scritto non innamorarsi. Sapere tutto ciò che riguarda il colpo. Tre, mai farsi riconoscere o ricordare. Quattro, dietro un quadro c'è sempre una cassaforte. Cinque, individuare le possibili vie di fuga di ogni luogo. In realtà la cinque, nonostante io non sia una ladra, la faccio anche io, ma perché ragazzi è veramente importante individuare tutte le uscite di sicurezza soprattutto nei centri commerciali. Io sono una che è un sacco amante delle serie True Crime, infatti Elisa True Crime io tipo l'adoro. E solo che veramente la maggior parte degli amici avvengono in un centro commerciale e perciò ciò che vi consiglio io è quello sempre di individuare un'uscita di sicurezza soprattutto quando siete da una festa senza magari amici, non solo al centro commerciale anche magari semplicemente quando state andando da un'amica appena conosciuta così. Perciò io vi consiglio veramente sempre di individuare le possibili vie di fuga di ogni luogo perché può sempre tornare utile. Infatti io appena entro in un luogo cerco sempre ma immediatamente di individuare le uscite di fuga. Comunque il sei è quello di distrarre l'obiettivo. Il sette è memorizzare i dettagli. L'otto, mai mostrarsi interessati a un lavoro. L'otto in realtà ve la consiglio anche nella vita reale. Io assolutamente ancora non sono entrata nel mondo del lavoro perciò ancora non so come funzioni però già a scuola magari durante i lavori di gruppo se tu ti mostri troppo entusiasta poi lasciano tutto il lavoro, scaricano tutto il lavoro su di te e di conseguenza poi te ti ritrovi a dover fare un sacco di lavoro per magari sei persone e perciò mai mostrarsi interessati a qualcosa. Sei interessato? Ok ma tienilo per te, non mostrarlo agli altri. In nove, non farti uccidere o peggio farti arrestare. E la dieci, rispettare tutte le regole. Alla fine la dieci in realtà non è mai stata rispettata ma va bene così. Comunque ve la faccio un po' più breve. Sylvie e Nick sono stati incaricati da Lord Harry per robare il diario di Casanova così che quest'ultimo avrebbe potuto ritrovare il tesoro nascosto però durante questa ricerca ci saranno diversi morti tra i quali uno è l'ex di Sylvie e l'altro invece è un vecchio professore cioè un vecchio professore dell'università che lei frequentava e perciò la trama in breve è quella di ritrovare il diario di Casanova dare il diario a Lord Harry e alla fine prendersi due milioni da dividersi in due quindi un milione a testa solo che in realtà il loro piano era quello di Sylvie fare innamorare Nick di lei e poi robarli due milioni e andarsene quello di Nick invece fare innamorare Sylvie di lui robarli due milioni e poi andarsene perciò erano molto molto diciamo facili i piani però qualcosa è andato storto ora passiamo ai temi io ve lo dico con il cuore aperto io sinceramente di temi in questo libro ne ho trovati veramente pochissimi sarà perché più che altro cioè mi è piaciuto ma l'ho trovato un sacco noioso soprattutto durante le spiegazioni d'arte e perciò non mi sono molto concentrata però sicuramente il primo tema è quello dell'abbandono infatti Nick è cresciuto in una casa famiglia barra orfanotropio fino ai suoi 17 anni dove poi è andato ad Oxford e sicuramente questa cosa ha segnato un sacco la sua vita e persino Sylvie è stata abbandonata dalla madre per 7 anni poi magicamente la madre è comparsa e l'ha portata insieme a lei in questo mondo di rubare del rubare e il secondo tema invece che ho riscontrato è stato sicuramente quello di una madre troppo asfissiante una madre diciamo che si aspetta che i figli risolvino i suoi problemi che i figli siano i figli di modello infatti la nostra carissima Sylvie deve sempre vestirsi in modo carino in modo molto femminile, molto provocante mettendosi vestiti, tacchi e truccandosi non mangiando carboidrati per rimanere proprio magra e perciò ho riscontrato questa cosa della madre che cerca la figlia perfetta il modello da far vedere a tutti quanti e perciò sicuramente questa cosa è molto presente nel libro la terza cosa invece è sicuramente quella del traslocare da un luogo all'altro infatti Sylvie per tutta la sua vita ha sempre traslocato da un luogo all'altro arrivando persino fino in Marocco, a Marrakesh ad esempio e per questo diciamo che aveva voluto sposare Vittorio che è il suo ex però poi l'aveva abbandonato sull'altare comunque lei stessa lo ammette che aveva all'inizio pensato di voler sposare Vittorio proprio per trovare un posto fisso dove stare invece il nostro caro Nick non vuole avere un posto fisso dove stare in quanto ha sempre paura che qualcuno lo venga a cercare e non vi dico altro perché sennò rischio di spoilerare di troppo vi dico solo che Nick Montecristo in realtà non si chiama Nick Montecristo ma va bene così poi la quarta cosa è sicuramente quella di sfruttare sia i lavoratori sia i minori in questo caso perché Nick durante l'università è stato sfruttato da questo suo professore dicendo che l'aveva assunto come braccio destro quando in realtà scaricava su Nick tutti quanti i lavori la quinta cosa o la sesta non mi ricordo è quella dove il nostro povero Nick per poter sopravvivere ha dovuto iniziare a vendere ad esempio le risposte dei test quindi sicuramente la povertà in questo libro è molto presente perché la nostra bellissima Sylvie ruba per saldare il debito della madre perché lei in realtà vorrebbe fargli l'insegnante e Nick invece ruba perché ormai non è che ruba lui è un consulente finanziario perché ormai c'è dentro fino al collo e perciò non può abbandonare o almeno non vuole abbandonare questa è la sua vita e a lui piace il sesto invece è quello di sogni infranti perché entrambi i nostri due protagonisti avevano un sogno ma non sono mai riusciti a raggiungerlo e perciò questa è una cosa veramente tremenda e il settimo punto è sicuramente quello del fatto cioè soltamente si dice i soldi danno la testa e il potere dà la testa ed è verissimo perché tutti volevano il diario di Casanova perché dicevano che portava un tesoro nascosto che li avrebbe resi ricchi e che li avrebbe resi ricchi e loro avevano pensato che diventando ricchi avrebbero ottenuto tutto il potere e perciò volevano per forza trovare quel tesoro e non gli interessava quante persone durante magari la ricerca di quel tesoro avrebbero potuto perdere la vita per loro l'importante era diventare ricchi e poter governare ecco perché si sa chi ha il denaro ha il potere comunque un altro invece tema trattato è sicuramente quello della germofobia del quale saffre Nick da quando è piccolo infatti Nick non riesce a stare in un luogo pubblico senza guanti in quanto ha paura di ammalarsi e poi questa cosa deriva diciamo da un suo trauma infanti da un suo trauma dell'infanzia che soltanto leggendo il libro scoprirete perciò direi di passare alla mia recensione io vi dico che questo libro do quattro stelle do quattro stelle perché è stato un sì ma un sì urlato perché è un libro scorrevole bellissimo la storia ti attrae ti intriga la storia è un qualcosa di veramente bellissimo cioè proprio ti fa venire voglia di leggere il prossimo capitolo e quando l'hai letto dici dai un altro capitolo e poi basta e ti ritrovi ad aver finito il libro quindi veramente molto bello l'unica cosa che non mi ha fatto dare quattro stelle e mezzo è sicuramente la troppa descrizione di storie dell'arte infatti io non sono una fanatica di storie dell'arte anzi in realtà non riesco neanche a leggere c'è la vita magari di Casanova senza addormentarmi il modo in cui l'ha scritta Felicia comunque sono riuscita a leggerla però mi sono ritrovata a sbagliare 40.000 volte quindi le troppe descrizioni di arte nonostante fossero importanti sia per il personaggio di Nick sia per ritrovare gli ari di Casanova però comunque a me non sono piaciute veramente tanto so che erano importanti per il libro e il modo in cui Felicia era veramente un sacco aggiornata sull'argomento come tutto quello che è scritto fosse vero mi ha lasciato veramente molto molto colpita però a me non piace storie dell'arte quindi non ci posso far nulla però per il resto è veramente una storia bellissima originale non avevo mai letto di due ladri al massimo ho letto di un ladro e una ragazza no invece hanno entrambi i ladri e perciò questo è stato veramente bellissimo e abbiamo sventito sicuramente con questo libro la teoria degli opposti si attraggono i simili no e perché a quanto pare i simili si attraggono e niente per me quindi è stato un sì assoluto è un libro veramente bellissimo scorrevole, fluente lo leggi con una facilità estrema ti attrai, ti intriga l'unico peccato l'unica cosa che mi spiace sono sicuramente le troppe descrizioni di arte è un libro che probabilmente rileggerò il prossimo anno quando dovrò studiare la vita di Casanova e di vari artisti che sono trattati in quel libro così almeno vado sul sicuro leggendo qualcosa che mi piace e usando la scusa del ma sì mamma ma lo faccio per la scuola quando non è assolutamente vero e niente ragazzi questa è stata la mia recensione quindi se a voi va iscrivetevi al canale accendete la campanellina così non vi perderete nessun mio video poi lasciate un bel like così so che il video è stato di vostro gradimento se vi va commentate perché come ho già detto prima i vostri commenti mi veramente riscaldano il cuore mi trasmettono una felicità assurda e niente noi ci vediamo in un prossimo video e io vi auguro una buona serata nella speranza che voi domani andiate in librerie e compriate prima regola non innamorarsi di Felicia Kingsley ciao ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao